Eccoci qui Stefano Delrico, segretario nazionale Unicobas, si è appena concluso il convegno il disastro educativo italiano, Delrico può farci una sintesi di questo evento? Ci siamo confrontati a tutto campo con Maragliano, con i presenti, con Reginaldo Palermo, vice direttore della tecnica che ringrazio, che ha coordinato il dibattito, a partire dalla denuncia che noi facciamo e che io ho fatto con questo libro La scuola rapita, edito da Armando, che parla anche del Covid e della DAD, ma poi appunto del disastro educativo italiano, è venuto secondo noi negli ultimi 30 anni, partendo dai dati di fatto, i dati di fatto che vedono la scuola italiana, come al solito nella posizione di Cenerentola in questo Paese, sono dimostrati da tantissime cose, il fatto che abbiamo la necessità di investire 13 miliardi secondo la protezione civile almeno, perché questo era il calcolo di 10 anni fa, solo per rimettere la norma di istituti e che invece con tutto il PNRR, 230 miliardi, vediamo un investimento di 800 milioni, al fatto che gli insegnanti restano italiani i peggiori attribuiti del continente, non si parla più ancora come al solito di un contratto che è scaduto alla fine del 2019, vediamo che per esempio la metà delle classi delle cattere di sostegno continua ad essere assegnata a persone non abilitate, non preparate, non specializzate, noi vorremmo invece una classe di concorso di modo che ci sia un'abilitazione e da 100 mila altri motivi, non ultima la gestione pessima della pandemia, anche se dal punto di vista della strategia di vaccinazione di massa è andata mediamente bene, non ha visto nessun intervento specifico, in Italia non ha speso 500 milioni come la Germania per sanificare le aule delle scuole, mentre invece ha proposto di tenere aperte le finestre e così è stato per due inverni, non ha trasporti dedicati per gli studenti, non ha messo a disposizione pullman e via dicendo che sono nei garage delle quattro armi dell'esercito piuttosto che degli enti locali delle regioni, non ha diviso le classi, hanno validato anche quest'anno 13 mila classi che vanno dai 26 ai 33 alunni, quindi classi pollaio, in Belgio i gruppi sono stati ridotti a 10, a 15 in Gran Bretagna e in vari altri paesi. C'è una situazione generalizzata che dal suo punto di vista possiamo dire statica, quali sono le priorità, ne può dire tre, in questo momento che dovrebbe affrontare il governo per migliorare la scuola e ripartire con un'altra marcia? Praticamente è la risposta alle cose che ho detto prima, bisognerebbe intervenire seriamente sull'edilizia scolastica, non solo per renderla a norma, ma anche perché sia un'edilizia mirata alla scuola, bisogna fare il contratto agli insegnanti ai quali non è stato dato nulla neanche per la pandemia, come è successo per altre categorie e bisognerebbe cercare di cominciare ad avvicinarsi alla media retributiva europea nella quale noi siamo all'ultimo posto, quindi servirebbe che nel giro di un paio d'anni si arrivassero ad avere almeno 1000 Euro netti in più per gli insegnanti e 500 per il personale ATA, ovvero quanto hanno in Spagna, la Spagna non è la settima potenza industriale del pianeta e poi bisognerebbe fare un intervento sulla pandemia riducendo il numero di allunni per classe e quindi assumendo e con queste assunzioni pensare anche ad un innalzamento dell'obbligo, inserendo l'ultimo anno di scuola dell'infanzia nell'obbligo ed arrivandosi nei 19 anni, non parlare per esempio di liceo a 4 anni. Ecco, questo è il vostro cavallo di battaglia, il tempo scuola va aumentato e non certo ridotto. Derrico non ritiene poco realistiche queste sue richieste, visto che il governo deve fare conto con altre priorità? Sono poco realistiche per un paese che ormai è fuori dalle grazie di Dio, certo che se dai 25 miliardi attuali dobbiamo arrivare ai 40 miliardi per le spese militari, tutto ciò non è realistico, ma quanto è realistico investire in spese militari, atteso che peraltro la questione dovrebbe essere risolta in sede europea e non gravare così tanto sui singoli paesi perché messi insieme tutti quanti spendono di più di quanto sarebbe richiesto dalla Nato, però al tempo stesso in modo sfasato e poi assolutamente utilizzare il danaro pubblico per far sì che scuola sanità, che si intervenga su scuola sanità al tempo stesso anche sulla questione del lavoro del caro Bollette, noi abbiamo di fronte un bivio, se imbocchiamo la strada delle spese militari vuole dire che avremo la distruzione dello Stato sociale, avremo sempre più problemi rispetto all'occupazione e dopodiché voglio vedere come tutto ciò si possa risolvere investendo unicamente o quasi unicamente per le spese militari. Va bene Enrico, la ringrazio.